Milano, l'immagine e il fascino della moda italiana che ha conquistato il mondo. La fantasia, l'arte e la creatività degli stilisti che hanno affermato i Made in Italy. Dalla Galleria Vittorio Emanuele di Milano, un appuntamento unico e irripetibile, con le tendenze e le anticipazioni del pret-à-porter firmato dai grandi stilisti. Lorella Cucarini e Mike Buongiorno con Cristina Parodi presentano Galleria di Stelle, galà della moda italiana. Giovedì 9 ottobre alle 20.50, in esclusiva su Canale 5. Siamo sempre a coccolarli questi figli, perfino la torta a merenda. Una torta semplice semplice, nutrire a colazione, merenda. Tu riesci a fare la torta ogni giorno? No, in frigo tengo Kinder Paradiso, la merendina preparata come farei io. Ingredienti genuini, soffice come appena fatta, con tanta crema di latte fresco pastorizzato. Kinder Paradiso e la merendina dal gusto delicato. Kinder Paradiso, freschezza di gusto, fragranza di torta. Golden Lady, grande amica. Candy sa qual è lo sporco più difficile, per questo ha creato il sistema HPS. Per pulire a fondo, anche a mezzo carico, e con delicatezza. Ho scelto e cambi. Se pensate che le cose emozionanti non siano sicure, preparatevi a cambiare idea. Preparatevi a Megane. Carreggiate passo maggiorati. Più tenuta di strada. E cintura SRP a ritenuta programmata, che proteggono la cassa toracica. Preparatevi a Megane a partire da 20.650.000 lire in caso di rotamazione. E per chi non ha un'auto da rotamare, l'aria condizionata è gratuita. Megane System, l'idea che cambia l'auto. Mamma, c'è il nostro vicino. Pensa, non ha più Kinder Cioccolato per i suoi bambini. Poveri bambini, dobbiamo aiutarli assolutamente. Tu cosa dici? È Kinder, è fatto per loro. Se i tuoi figli ti chiedono del cioccolato, dagli Kinder Cioccolato, quello con più latte e meno cacao. Kinder Cioccolato è Kinder. E io sono tranquilla. Mettereste una mano nell'acqua a 60 gradi? Io ci ho lavato la mia maglietta preferita. E i colori? Un disastro. Poi Claudia mi ha detto, i colori si lavano a 30 gradi, ma con omino bianco color, aggiunto al detersivo. Oh, le macchie vanno via! E i colori perfetti! Omino bianco color, a 30 gradi, via le macchie, colori perfetti. Quanto dovere? Il garage, il ristorante, l'albergo, un'ora di telefonata urbana, o via! Paghi! Nove scatti, quanto caffè? Non sapere che il tariffo urbano italiano è tra i più bassi d'Europa? E lo vedi che ti conviene restare? Vorrei dare più personalità al colore dei miei capelli, ma senza impegnarmi troppo. Nuovo L'Oreal Casting, shampoo colorante dolce con multivitamina, dà riflessi naturali e nasconde i primi capelli bianchi. Casting esalta davvero il mio colore. Clic, colore, e via i capelli bianchi. Senza ammoniaca, quindi dolce. Casting, dà riflessi tono su tono, e non si vede la ricrescita. Io ho colorato i capelli, e gli altri notano la brillantezza. Nuovo L'Oreal Casting, shampoo colorante dolce con multivitamina, il colore che ti fa brillare. In tutta dolcezza. Gianni Stompo, campione di tri. Il suo segreto? Nuovo Vim universale, in gel e con la forza sgrassante dell'ammoniaca. Nuovo Vim gel universale, senza pietà, contro lo sporco più sporco. Oppure l'ana vergine, o niente. La standa, un mondo che vale. Venite qua, venite qua, venite qua, ragazze, eccezionalmente, la prossima settimana, Beato tra le donne, non andrà in onda di giovedì. No! Eh no, eh no, ve l'ho appena detto, che non si sappia in giro, andrà in onda di mercoledì, un giorno prima. E' prima! Zitte, state per zitte, non si deve sapere in giro. Lo volete sapere perché? Perché giovedì c'è la senata della grande mota, da Milano! Cretino! Era una cosa che doveva rimanere tra di noi, non si deve sapere in giro. Comunque, vero è che la prossima settimana, Beato tra le donne, andrà in onda di mercoledì, 20 e 50, canale 5, ospite d'onore, che non si sappia in giro, Bud Spencer! Il resta al ciccio! Eh oh, fermi! Non so Bud Spencer io, state per ferme! Fermi? Ah, bene! Gli occhiali!